E' il 9 aprile 2017, siamo nella sala consigliare del Comune di Scandicci, ricordiamo Giovanni Ciccone. Siamo insieme a Stefania Pace, a cui passo la parola per un ricordo del maestro. E' difficile ricordare, o perlomeno è difficile esprimere quello che si ricorda di un periodo che in qualche maniera ci ha segnato per tutta la vita. Io non faccio la musicista, quindi non ho continuato a suonare il pianoforte come avevo imparato a fare con il maestro, però quello che mi ha insegnato il maestro ad ascoltare la musica, ad ascoltare le sfumature, ad ascoltare quello che la musica ti dice, mi è rimasto, e mi rimarrà credo per sempre. Era Burbero? Non lo so se era Burbero, era il maestro e andava bene così. Grazie. Grazie. Non è scappato, vieni, vieni.